si fanno tante chiacchiere sulla città turistica eppure oltre 5.000 metri quadri all'interno della città il famoso camping degli olivi venivano tenuti nell'incuria e nell'abbandono abbiamo deciso come regione di riappropriarci di questo bene e metterla a disposizione con un bando pubblico degli operatori turistici che vorranno realizzare veramente iniziative utili a favorire la ricettività turistica alberghiera e a fare di quello che è uno dei polmoni verdi della città di Reggio Calabria più noti un'opportunità per costruire il futuro di Reggio